Sarò banale scontata ma lo voglio ricordare Quindi intelligentemente credo di aver fatto una buona scelta che è quella anche di aver aperto una piccola impresa con il mio compagno che mi dia un reddito più stabile indubbiamente e poi tutte quelle che sono invece le mie passioni artistiche spero comunque sia di poterle continuare a coltivare e di fare sempre meglio e perché no di continuare il percorso con Aldone che ormai siamo un duo veramente scoppiettante speciale speciale Bene, allora vogliamo fare un augurio io ti lascio da sola così ai spettatori di Canale 25 Un abbraccio grandissimo a tutti i telespettatori di Canale 25 spero che vi siate divertiti con la nostra intervista dovete veramente avere un Natale strepitoso un Capodanno ancora di più quindi come dico io veramente tutto è perfettibile quindi vedrete che il 2015 sarà un grandissimo anno Bacioni a tutti quanti